C'è chi apre e chi sceglie di attendere ancora qualche giorno, in particolare nel caso dei ristoranti. Gli esercenti bellunesi hanno accolto con favore, complice anche la bella giornata di sole, l'avvio della fase 2, potendo riaprire i propri locali al pubblico, tornando a servire nuovamente caffè, drink, gelati e alimenti. Tutto ciò nel rispetto delle linee guida della Regione Veneto, che prevedono fra i vari aspetti il distanziamento interpersonale di almeno un metro, di rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale e laddove è possibile di privilegiare gli spazi esterni. Intanto i bellunesi tornano a riscoprire il piacere di un drink o una buona pietanza in compagnia. È andata bene, la gente ci aspettava, questa mattina tutti i clienti entusiasti. È un po' lenta perché le persone sono iniziate a venire dalle 10, 10 e mezza, un po' di flusso e non quello che immaginavamo. Speriamo che la gente ancora abbia voglia di vivere, uscire, venire qui al bar da noi a trovarci. Il lavoro per consentire di poter riaprire i locali non è di certo mancato. Ho fatto fare la disabilitazione del locale prima, la mia ditta si è appunto preposta per questo lavoro e mi sono organizzato questo piccolo angolo qui per poter permettere alle persone di distanziarsi un po' di più. È una settimana frenetica e impegnativa per adeguarci alle nuove disposizioni per poter lavorare con una certa tranquillità. Cerchiamo di responsabilizzare il cliente stesso. Come confermato da Confcommercio Belluno, i bar sono quasi tutti tornati operativi fin da subito, mentre si dovrà attendere ancora qualche giorno, magari per chi gestisce un ristorante. Abbiamo dei tempi tecnici da rispettare e non è proprio possibile in due giorni riorganizzare una macchina così, un'azienda, e poi poter partire al meglio. Noi abbiamo comunque aperto i battenti, ma non ancora al pubblico, perché le aziende a cui ci siamo rivolti per la fornitura degli igienizzanti ed eventuali separatori in plexiglass sono aberrati di lavoro e non riescono a smaltire tutte quante le ordinazioni.